Un appuntamento immancabile, copertina lifestyle e il suo puntuale racconto sullo stile contemporaneo. Le nuove tendenze della moda, raccontate da marchi diversi per stile ma tutti uniti nella tradizione del made in Italy, del bello e ben fatto. Giorgio Armani, Versace, Ermanno Cervino, Enrico Coveri, VDP, Via delle Perle, Elena Mirò, Francesco Scognamiglio. I nomi dell'accessorio, dalle calze Pierre Mantoux alle calzature Vic Mathieu e poi focus sulle grandi mostre specializzate, Micam e il mondo delle calzature, Mipel dove è protagonista la pelletteria e come sempre copertina non fa mancare il regalo di una frizzante passerella di celebrità.